Ciao cari amiche, oggi una nuova puntata paurosa! Oggi, cari amiche, si parla di Halloween, quindi buon Halloween a tutti! Sicuramente bisogna sempre iniziare un pochino prima, perché sennò i progetti, come sapete, sono un pochino lunghini da fare. Cari amiche, ho pensato a questo progetto soprattutto per le maestre di scuola e quindi andiamo tutto al recupero più estremo. Allora, prima di tutto mi potete chiedere il cartamodello al mio numero whatsapp qui sotto o lo trovate sul mio sito ed è completamente free, lo potete scaricare. Allora, quando si va in giro, nei vari negozi, nelle varie fiere, ovunque, si trovano tante volte delle bellissime sagome di legno, che sono belle perché è comunque un materiale nobile, però costa e se ne dobbiamo fare tanti, io capisco che i soldini sono quello che sono. Quindi, impariamo a utilizzare le sagome che acquistiamo per nostro uso personale e riprodurle, farle diventare dei cartamodelli. E guardate qua la noa zucca cosa hai fatta, però non l'ho fatta con la sagoma di legno, ma ho usato della semplice gomma di mushgummi, della crepla, del fammi, chiamatelo come volete, gomma eva, è gomma, ok, che comprate dappertutto e un foglio grande, costa veramente pochissimo, dove ne potete recuperare tre o quattro. Addirittura, se non avete la gomma del colore che desiderate, potete comprare quella bianca o quella del colore che avete, magari che non lo utilizzate più, e lo potete andare a ricolorare. E come facciamo? Adesso iniziamo subito. Allora, potete utilizzare benissimo i miei colori e per fare questo bellissimo arancio ho utilizzato il rosso, una puntina di rosso, quindi facciamo un quarto di rosso e tre quarti di giallo, perché il rosso è veramente molto molto intenso. Quindi mischiate tre parti di giallo, una parte di rosso e otteniamo questo bellissimo arancio. Quindi che cos'è che ho fatto? Ho colorato della gomma sia avanti che dietro di arancio e ho lasciato asciugare perfettamente. A questo punto che cosa si deve fare? Si prende il cartamodello o se avete la sagoma di legno, la posizionate e poi prendete la punta della forbice, la punta di un bulino, quello che desiderate e andate a segnare in questo modo la vostra sagoma, quindi il perimetro della vostra sagoma. Potete farlo anche con una matita e se desiderate, se lavorate esempio con dei bimbi, ma la sagoma così, il musgumi sapete che si può incidere senza problemi anche con la punta della vostra forbice. E poi velocemente andiamo a rifare anche le parti interne. Ecco qua. Fatto questo, andiamo a fare anche la nostra bocchina con i nostri bei dentoni. Io ho usato del musgumi, però voi potete utilizzare anche del cartone di recupero, cioè cercate di recuperare per questi progetti tutto quello che vi viene in mente. Ecco, come potete vedere, adesso la metto a favore di camera, ecco qua Mauro, come potete vedere abbiamo inciso senza problemi la nostra gomma. Cosa importante, dobbiamo subito creare gli effetti di rotondità. Allora, prima di tutto, prima degli effetti di rotondità andiamo a rifare l'altra metà, vedete qua che manca l'altra metà della foglia. Quindi, semplice, semplice, dal nostro cartamodello, che sia in legno o in carta, andiamo a girare la foglia, l'andiamo a mettere così e andiamo a recuperare la parte mancante della nostra foglia. Quindi, guardate qui, abbiamo recuperato perfettamente l'altra metà della foglia e adesso dobbiamo fare le rotondità. Anche qui le rotondità le andiamo a riprendere con la stessa rotondità del panciotto della nostra zucca. Quindi, mi posiziono in quel punto lì, arrivo lì e vado a fare proprio la parte della rotondità uguale, perché il bello della zucca è proprio questo, che siano uguali. Stessa cosa dall'altra parte. Adesso, uso sempre lo stesso lato, lo vado a posizionare qui e mi andrò a fermare prima della foglia, quindi era per questo che era importante fare la foglia. E andiamo a fare quest'altra parte. Allora, ecco qua, fatto tutti i segni, abbiamo fatto la foglia e i vari segni della nostra foglionina. Adesso prendiamo la forbicina, io preferisco sempre tagliare con la forbice, non con il cutter, con la forbicina. Vado a ritagliare per bene il tutto, ecco qua, e vado un po' in velocità a ritagliare perfettamente la nostra gomma. Logicamente, nei punti del bordo risulterà del colore originale del cartone o della gomma che noi stiamo utilizzando, ma poi con le sfumature lo andremo completamente a mettere a posto. Allora, datemi qualche minuto per tagliare. Ecco, ho quasi tutto tagliato, guardiamo l'ultima parte che è tagliare il nasino, quindi si entra con la punta della forbice, come potete vedere molto morbido, e si taglia il nostro semplice nasino. Ecco qua, possiamo, dopo che siamo entrati con la punta della forbicina, possiamo anche andare con la forbice un po' più grande, lineare, e tagliare perfettamente la parte del nostro nasino. Ecco qua, perfetto. Quindi abbiamo già la nostra zucca tagliata, il bello è che è già anche arancio dietro. Le parti qua sono del colore della nostra gomma, ma adesso con le sfumature le andremo a sistemare. Allora, togliamo subito queste parti qua, che non ci servono, ecco qui, e andiamo in primis a dipingere la nostra foglia. Quindi, che cosa bisogna utilizzare di particolare in questo caso, quando si fa questo tipo di pittura, che è un po' la pittura country? Si devono utilizzare i pennelli angolari, quelli tagliati, quindi un pochino di acqua, ok? Sempre si strizza sempre bene, prendiamo il nostro colore verde, e andiamo a colorare la nostra foglia, in questo modo qua. Quindi, come potete vedere, con il nostro pennello angolare andiamo a colorare la nostra fogliolina. Ecco qua, vedete che la parte della rotondità del nostro pennello angolare non ci fa sbordare e facciamo il nostro bordo, ok? Logicamente qua dobbiamo arrivare al nostro picciolo, che poi andremo a rametto, insomma. Andiamo a coprire perfettamente tutta la parte della nostra foglia, ecco qua. Come potete vedere, il colore va a coprire a una mano subito, velocemente. Ecco qua. Già che ci siamo, prendiamo un pochino di marrone, ok? Che è, in questo caso qua, il tortora, e lo andiamo a mescolare con il nostro verde, non c'è nessun problema. E andiamo a fare la parte del rametto. Subito andiamo a colorare, a sporcare un pochino il bordo esterno. Ecco qua. Le sagome in legno sono fatte a laser e normalmente sono sbruciacchiate, quindi diamo sempre lo stesso effetto del nostro effetto legno laterale. A questo punto andiamo sempre a lavare bene il nostro pennello e adesso andiamo a lavorare sulle parti interne della nostra base. Allora, per caricare, per fare le sfumature nella pittura country, bisogna bagnare solo e esclusivamente la punta del nostro pennello. Caricare in questo modo solo la punta, ecco qua, vedete? E poi fare questo lavoro qua, cioè creare una riga pulita. Lavorando sulla gomma, il consiglio che io vi do è quello di andare a bagnare con un altro pennello angolare la parte che noi vogliamo sfumare, perché così il colore scivola un pochino meglio. Allora, non è la mia tecnica la pittura country, cioè ne so veramente solo le basi, però lo dobbiamo fare in un modo molto semplice. Ecco qua, come potete vedere, siamo andati a creare questa sfumatura sulla parte che desideriamo. Logicamente, dobbiamo fare tutte le rotondità in questo modo, quindi abbiamo il pennello caricato solo sulla punta. Io adesso sto usando il colore tortora e quindi i colori adatti per questo effetto di sfumatura sono il tortora, sono il marrone, sono il fango. Ecco, ecco qui, andiamo a creare questa ombra. Stessa cosa la dobbiamo fare attorno agli occhietti e alla nostra bocca. Quindi andiamo a bagnare e andiamo a ripetere in questo modo molto semplice la parte del nostro contorno. Allora, vedete che qui sono stata molto più casareccia, diciamo così. Ma perché dobbiamo farlo in un modo semplice? Andiamo a sporcare anche i bordi interni. Ecco qui, andiamo a sporcare anche i bordi interni. Stessa cosa la dobbiamo ripetere per tutti i nostri occhietti e l'altra parte. Per quanto riguarda la foglia, quando sarà finita andremo semplicemente con il marrone a fare la parte interna della foglia utilizzando la punta del nostro pennello. Però adesso vi voglio far vedere una chicca che a me piace tantissimo. Vedete su questa, che l'ho fatta un pochino più scura, che ci sono tutti questi puntini. Come facciamo a ottenere tutti questi puntini? Facciamo in questo modo qua. Prendiamo un vecchio spazzolino da denti, care amiche. Lo bagniamo. Lo scarichiamo in questo modo qua. Andiamo a caricarlo con il colore di avanzo. Quello che è, cioè va bene il marrone, il verde, anche per non sprecare le tonalità. Ecco qua, lo andiamo proprio a fare entrare bene in tutte le parti del nostro pennello, in questo modo. Lo andiamo a ribagnare e lo scarichiamo in questo modo qua. Ok. A questo punto lo dobbiamo... Allora, sposto questo e qui magari vi consiglio mettete dei giornali, rimettete un qualcosa per non sporcare troppo la base di lavoro. Allora, lavorate in questo modo, tenendolo sempre perpendicolare e cominciate a fare in questo modo qua. Ecco qua. Tante piccole puntini andranno ad arricchire la nostra zucca. Questo effetto si chiama puntinatura, moscatura, ok? In decorazione viene utilizzata tantissimo anche per dare quell'effetto anticato ai mobili e così via. Però, come potete vedere, tutte le varie tecniche si vanno sempre a riprendere. Si vede bene, Mauro? Eh? Tutti questi bei puntini sulla nostra base. Allora, care amiche, io spero che questo progetto di Halloween vi sia piaciuto. Ecco qua. È molto semplice da realizzare. Potete realizzarlo su legno, su gomma, su cartone. Il cartamodello lo potete richiedere o scaricare direttamente sul mio sito. È gratuito. Io, nel salutarvi, vi ricordo sempre che potete vedere tutte le mie puntate sul mio canale YouTube Laravella Video, seguirmi sui miei social Instagram e Facebook. E se avete anche solo voglia di lasciarmi un like o di mandarmi un messaggino su WhatsApp e con le foto dei vostri progetti, io ne sono contenta. Ci vediamo presto per una nuova puntata. E buon Halloween a tutti. Ciao, ciao! 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 Ciao!